Ad un anno dall'uscita di Dying Light, Teclan pubblica The Following, la più corposa espansione dedicata al suo zombie game in prima persona. Portandoci addirittura fuori dalle mura della città, in una nuova zona splendidamente caratterizzata, The Following arricchisce la formula di gioco con elementi inediti, nuove armi, una storyline che accoglie elementi mistici ed esoterici e addirittura la possibilità di mettersi al volante di una rapidissima di un buggy, accompagnata da un nuovo skill tree dedicato alle abilità di guida. L'espansione comincia con il protagonista Kyle Crane che si dirige fuori da Haran, seguendo le indicazioni di uno sfortunato supersite. Il suo obiettivo è indagare sulle voci riguardanti una serie di sopravvissuti immuni al contagio, appartenenti ad una setta chiamata Figli del Sole. La trama, che vi terrà impegnati per una decina abbondante di ore, si rivela inaspettatamente interessante, presentando nuovi personaggi ed un paio di colpi di scena indovinati. The Following ci conduce insomma in un ambiente nuovo, esteticamente e strutturalmente diversissimo rispetto a quello che conoscevamo. Si tratta di un'ambientazione rurale, fatta di campi aperti, costellati da qualche fattoria e circondata da boschi che invadono ampie vallate rocciose. Un cambio stilistico radicale, che rappresenta un toccasana per la varietà, anche se in fondo l'impatto scenico ed il level design di Haran erano non solo più efficaci, ma anche molto più originali. La nuova ambientazione, più estesa e meno soffocante, è pensata per accogliere la più grande introduzione di questo DLC, ovvero la di un buggy. Nelle prime fasi dell'avventura metteremo le mani su un velocissimo bolide a quattro ruote, con cui potremo sfrecciare attraverso le aree di gioco infessate dagli zombie. La di un buggy schizza come un diavolo ed è divertente da guidare, nervosissima e scattosa. Il fatto che gli spostamenti da una parte all'altra della mappa vengano a bordo dell'avventura cambia notevolmente il tono della progressione, che si fa un po' più caotica e chiassosa. Mettere sotto i mangiacarne e fare lo slalom fra le auto abbandonate è un'operazione generalmente divertente, anche se forse meno concreta, rispetto al parkour effettuato nelle strade di Haran. Resta comunque lodevole l'intenzione di diversificare in maniera sensibile l'esperienza di gioco. In un mercato di DLC che rappresentano troppo spesso stanche estensioni dell'avventura originale, l'espansione messa in piedi da Techland è un esempio brillante e coraggioso. La gestione della di un buggy è peraltro molto interessante. Per mantenerla in funzione è necessario recuperare viti per ripararne le componenti e qualche tannica di benzina per riempire il serbatoio. Questo ci impone di cercare tra le carcasse delle auto abbandonate, confermando quanto sia importante la componente survival che il titolo torna a promuovere. La nostra vettura potrà poi essere potenziata grazie ad una serie di moduli in grado di migliorarne trazione, potenza del motore, capacità di frenata e resistenza degli ammortizzatori. L'esperienza accumulata quando saremo a bordo, infine, incrementerà la nostra abilità alla guida, permettendoci di sbloccare i potenziamenti di uno skill tree aggiuntivo. A livello di contenuti, il DLC di Dying Light non si fa mancare davvero nulla e propone peraltro un numero eccezionale di quest, divise tra principali e secondarie. Tutte le attività sono ben caratterizzate e spesso vi condurranno in luoghi interessanti da visitare, facendovi riscoprire l'ottimo design degli interni e la cura per il dettaglio, che in The Following proprio come in Dying Light è sfruttata per raccontare indirettamente la storia violenta dell'epidemia. L'incedere dell'espansione si avvicina a quello di un sandbox classico, lasciando al giocatore anche la possibilità di dedicarsi a sfide extra, quale la liberazione di rifugi e torrette di caccia. È facile notare fin da subito una difficoltà pronunciata, tanto che il titolo suggerisce di affrontare l'avventura con un personaggio che abbia raggiunto almeno il diciottesimo grado di sopravvivenza. L'elevato livello di sfida è legato anche ad un'abbondante presenza di zombie e dall'aumento degli scontri. Il gioco ci impone in molte occasioni di affrontare gruppi di banditi o versioni potenziate dei mangia carne, assicurandosi comunque di farci trovare una considerebole quantità di proiettili e diverse armi da fuoco. L'introduzione della balestra, i cui dardi possono essere recuperati dai corpi delle vittime, è una delle trovate migliori di The Following, e testimonia una volta di più l'investimento creativo del team di sviluppo. The Following è un esempio da seguire per chiunque voglia sviluppare contenuti aggiuntivi. Techland ci consegna una nuova avventura, che in termini di qualità ed estensione ha poco da invidiare a quella originale. La trame è intrigante, ma il piatto forte di questo succulento banchetto è rappresentato dal numero e dalla qualità delle missioni. L'arrivo della Dumbaggy, parallelamente all'apertura degli spazi, modifica in maniera avvertibile i ritmi della progressione, confermando la voglia di fare del team ed il coraggio di percorrere nuove strade.